Sì, abbiamo un'area che per fortuna funziona, in cui sono previsto un grandissimo investimento della Clivet, sono 30.000 metri quadrati coperti, una zona benessere per i dipendenti e 300 assunzioni. Tutte le altre realtà industriali, insomma, sono realtà industriali di spessore che vanno bene. Bisogna fare investimenti anche su questo per migliorarla. Ci sono problemi di parcheggi, perché c'è poco spazio disponibile. Ci sono problemi di assistenza, in qualche modo, di servizi per i camionisti che si fermano sabato e la domenica, per cui un'area di sosta, un'area di servizi per loro. C'è anche un problema di collegamento col centro città, con una mobilità anche alternativa e, insomma, un po' di ridisegnare quest'area in cui danni non si investe più.